Il mondo dell'enologia in una terra patria del vino, quella del territorio di Cervetri, è un settore in esplorazione. Qui, dove nascono vini e segreti di come farlo, è crescente la richiesta dei corsi di avvicinamento all'enologia. Motivo che ha spinto da qualche anno Katia Minghi, sommelier di lunga data, a svolgere dei corsi come se fossero a scuola. Quindi parlare di uno Chardonnay o di un Sauvignon o vedere come questi vini magari possono interagire con altri per la produzione di un vino tipico che può essere o uno spumante metodo classico o addirittura uno champagne dove i vitigni internazionali quali lo Chardonnay, il Pinot Nero si incontrano e quindi capire quali sono le caratteristiche organolettiche. Le lezioni avranno durata di due ore e mezza con cadenza settimanale e partiranno dal 15 ottobre curati da momenti divini.